Complimenti per il cappello, complimenti, complimenti, grazie, grazie. E tra poco tutta la musica da ballare, la discoteca ce l'ho aperto, svegliamo l'Italia e Fidenza. Allora ascolta, tengo qualche piccola di plastica, perché non ci sono trovi questi, no? E allora, questo cappello, di chi è questo? Questo cappello l'ho preso con i tanti dei Fidenzi, mi ha dato 2 euro loro, se lo fa in Italia. È bello, è bello, è bello, è bello. Finalmente Fidenza è viva, che è l'ultimo dei gatti. Sì. Dai, 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 per poco ci siamo, eh. Alto, tutto bene, Alto? Tutto bene, dico bene, lì davanti, cos'è, 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 sono tanti, sono tanti? Abbiamo un sacco di buone ragazze, d'accordo di cine, giallo, superuncella morosa. Andate con i lavori, andate con i lavori, andate con i lavori, lo facciamo noi. Da poco siamo, cosa manda? Adesso non metto, non metto, non metto. Un metto, non roggio. Allora, mandalo esattamente. Tienilo, tienilo l'occhio. È molto utile. Allora, otto minuti, in silenzio, mi raccomando. Sì, sì, sì. Vi vogliamo tutti qua davanti a noi per brindare questo 2014. E' così, sì. e mezzanotte, diamo da bene a tutti, allora questo qualcuno che si prende con il bicchiere di carta, con il bicchiere di plastica, di plastica, di plastica, mi ricordiamo fino alle 6 del mattino, grande festa di Vieti Geranto per a tutti, altra di questo, altra quello, altra di Berlino, eccolo qua, va bene, eccolo qua, va benissimo, perfetto, allora tu lasci a far male la regia che vedi che va tutto, forza 26, la borghissana più calda d'Italia, me lo giuro, allora dico a Maurizio che dopo ti darà il regalo di Pesano, no, no, va bene, dai, forza Fidenza, Marchinezzi, c'è Marchinezzi, la ragazzina albanese dove è data, la mia rete, allora, tutti a fare il bagno in Fontana, mi ricordo, vai in Pironi, in Pironi, ciao, a centro, adesso andiamo.